Musica Benvenuti oggi 16 agosto, si festeggia San Rocco. Tra i personaggi famosi nati in questo giorno ricordiamo la cantante Madonna. Ed ora passiamo all'oroscopo. A liete, piccole difficoltà e qualche incomprensione potrebbero essere causa di nervosismo e di litigi in amore e in famiglia. Non riuscirete ad essere obiettivi. Toro, non perdete tempo a mettere in atto le ottime idee che vi verranno in mente durante la mattinata. A costo di sacrificare qualche ora di riposo, accettate un invito. Gemelli, siete soggetti ad influssi piuttosto misti e dovete fare attenzione a non lasciarvi prendere dal nervoso. L'impazienza potrebbe giocarvi un brutto tiro, autocontrollo. Cancro, la vostra oculatezza nelle spese vi consentirà di superare momentanee difficoltà. Una nuova storia sentimentale potrebbe avere delle prospettive interessanti. Leone, la vostra sensibilità accentuata da un leggero malessere potrebbe acuire alcuni contrasti insieme alla famiglia. Restate nei limiti del buonsenso, riposo e relax. Vergine, avrete più estro creativo e fascino personale, pertanto i rapporti con gli altri saranno facili e piacevoli. Inoltre, ci sarà per voi la possibilità di migliorare la posizione economica. Bilancia, data l'odier la posizione degli astri, avrete una battuta d'arresto nei vostri piani. Non forzate nulla, aspettate qualche giorno prima di prendere una decisione. Scorpione, se agirete in fretta e tempestivamente riuscirete ad afferrare una buona occasione che vi potrà anche dare alcuni vantaggi economici, ma non dovete avere troppi scrupoli. Svago. Sagittario, sarete costretti a rinunciare ad un progetto inedito a causa dei grandi costi e dell'impegno che potrebbe comportare. Chiarite al più presto certe questioni in famiglia. Capricorno, sarete particolarmente soddisfatti di voi stessi e di come siete riusciti a gestire una situazione molto delicata sul lavoro. In amore esiste la possibilità di un nuovo incontro. Acquario, l'intesa con la persona amata e con i familiari sarà perfetta. Insieme passerete una giornata piacevole in cui ognuno riuscirà ad esprimere la propria personalità. Relax. Pesci, sarete costretti dalle circostanze a prendere una decisione che vi costerà fatica, non per le sue reali difficoltà, ma per vincere l'orgoglio. Di lì passa la strada per giungere alla meta. Proverbio del giorno, pattigliari, amicizia lunga. Questo è tutto per oggi, arrivederci e a domani. Grazie. 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 Grazie.